Per una città sempre più a misura di famiglia, il Comune di Napoli lancia il progetto Napoli for Families, un'idea dell'area comunicazione e marketing sviluppata con l'assessorato al turismo, che a costo zero per l'amministrazione vuole ampliare servizi e offerte in vista di un flusso turistico che negli ultimi mesi è in costante crescita. Napoli for Families noi la definiamo un'esperienza di viaggio, un'esperienza di viaggio che vogliamo proporre a tutte le famiglie napoletane, a tutte le famiglie di turisti. Vuole essere un interscambio di emozioni, un momento di condivisione e di partecipazione con la possibilità di regalare ovviamente a queste famiglie un ricordo che sia in qualche modo indelebile. L'iniziativa consentirà in particolare alle famiglie con bambini di vivere esperienze culturali, didattiche e ricreative mai provate prima. 29 realtà, associazioni, musei, soggetti pubblici e privati hanno aderito alla manifestazione di interesse e proposto attività e itinerari su cibo, arti, cultura, teatro, letteratura, natura e artigianato. Cercare di qualificare sempre di più la nostra offerta e migliorare i servizi fa parte delle strategie che stiamo mettendo in campo e che credo stiano dando anche interessanti e belli risultati, importanti risultati. Questa idea di coinvolgere tanti operatori facendo un focus in particolare sulle famiglie e sui bambini e quindi supportare le famiglie durante il loro soggiorno offrendo attività, occasioni di incontro, narrazioni che siano adatte ai bambini per incontrare la nostra città e la sua grande storia, la sua straordinaria bellezza e credo un esempio, un altro modello virtuoso che in qualche modo riusciamo ad attivare. Il progetto Napoli for Families, dotato di un apposito sito web, durerà in via sperimentale quattro mesi e si pone tra gli obiettivi quello di agevolare il turismo domestico e sensibilizzare l'opinione pubblica al tema delle famiglie omogenitoriali. Abbiamo cercato attraverso una manifestazione di mettere in rete delle realtà molto importanti che però in qualche modo erano ancora scollegate e di inserirle in un contenitore attraverso questo sito che si chiama napoliforfamilies.it. Il sito è molto fruibile, molto semplice, è responsive, ci sono tutte le associazioni, tutti i tour divisi per categorie, saranno categorie che vedranno tour musicali, cinematografici, teatrali, artigianali e naturalmente il fine di tutto questo è che noi assolutamente vogliamo che Napoli sia a misura di famiglia, di tutti i tipi di famiglia, a misura di bambino, a misura di diversamente abili. Napoli a misura di tutti.